RTC Quarta Rete Partiamo con Cava dei Tirreni e facciamo un punto della situazione sui lavori di messa in sicurezza in via Michele Morcaldi, nei pressi dell'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità. È ancora una volta la burocrazia a rallentare i lavori di messa in sicurezza del terrapieno franato lo scorso 25 marzo in via Michele Morcaldi, a pochi passi dall'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Dopo mesi caratterizzati da un vero e proprio bacio di ferro tra la provincia di Salerno e il proprietario della porzione di muro che è venuta giù insieme al terrapieno sottostante e da un lungo iter che ha visto entrare nel merito della vicenda sia la Prefettura che la Procura della Repubblica, da qualche settimana finalmente è stato effettuato il totale sgombero del materiale franato dalla sede stradale ad opera della provincia. L'intervento è stato eseguito in danno. Nei giorni scorsi però si è palesato un ulteriore problema. È necessario sistemare adeguatamente il muro soprastante la strada, lesionato in più punti e che, secondo la soprintendenza, trattandosi di una costruzione della cinta muraria medievale del corpo di Cava, dovrà essere recuperato, con l'ausilio di alcune tecniche di salvaguardia e non abbattuto come previsto inizialmente. L'argomento è stato affrontato nel corso di un tavolo tecnico che si è tenuto lo scorso 26 luglio in Prefettura. Già in quell'occasione la soprintendenza, nel verbale redatto, aveva espresso una serie di prescrizioni per proseguire i lavori, ma, a quanto pare, la provincia è in attesa di ulteriori prescrizioni più dettagliate dall'organo periferico del Ministero dei Beni Culturali. In realtà, già nelle scorse settimane, il proprietario dell'immobile interessato dalla frana aveva segnalato il pericolo di un nuovo cedimento, che a suo avviso correrebbe un altro tratto di muro, per via della mancanza di un adeguato intervento di consolidamento. Lo stesso sostiene che lo sgombero della carreggiata dal materiale franato avrebbe reso ancora più reale e concreto il rischio di ulteriori scivolamenti a valle, poiché, a suo avviso, il materiale che ingombrava la strada rappresentava un rinforzo al costone roccioso pesantemente fessurato e crepato. La Palazzo di Città fanno sapere che è in corso una costante interlocuzione con la provincia e gli altri enti interessati per cercare di accelerare i tempi. Nel frattempo proseguono i disagi per la comunità monastica dell'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità, che ormai da oltre 100 giorni è parzialmente isolata. Anche sabato scorso, in occasione della celebrazione del venticinquesimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale del padre Abbate Don Michele Petruzzelli, i numerosi presenti sono stati costretti a percorrere la scalinata che scende dall'antico borgo del Corpo di Cava, un percorso alternativo, sicuramente suggestivo e ricco di fascino, ma alquanto impervio e non proprio agevole, o addirittura superare le transenne e passare a proprio rischio e pericolo sotto il costone pericolante. Il padre Abbate, nella sua meria, rivolgendosi al presidente della provincia, Franco Alfieri, presente alla cerimonia, ha invocato un maggiore impegno per risolvere la problematica. E apriamo la pagina della cronaca. Rischiai di annegare a Castiglione, turista salvato dal pronto intervento del bagnino. Paura a Castiglione nella giornata di ieri per un ragazzo che ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno. Il 29enne, un turista asiatico in vacanza in costiera amalfitana, aveva deciso di farsi un bagno nello specchio d'acqua antistante alla spiaggetta di Castiglione. Tuttavia, mentre era in acqua distante dalla riva, ha perso i sensi. Fortunatamente, la prontezza di riflessi del bagnino, da tre anni in servizio presso il lido della zona, ha evitato il peggio. Il giovane, infatti, si è tuffato immediatamente in mare, raggiungendo e recuperando il 29enne. Una volta portato a riva con l'aiuto di un altro bagnante, il turista è stato sistemato sul lettino e, grazie allo svolgimento delle manovre salvavita applicate come da protocollo, ha espulso l'acqua che aveva ingerito. Nel frattempo, è giunta sul luogo l'idroambulanza della Croce Rossa proveniente da Maiori, che è imbarcato il paziente a bordo, vigile e cosciente. Il comandante dell'imbarcazione si è diretta da Amalfi per sbarcare il paziente e affidarla all'ambulanza che attendeva sul pontile della Darsena. Banconote false. Tre persone sospette fermate a Positano. Vediamo. Tornano a circolare le banconote false in Costiera Amalfitana. Nella giornata di ieri, infatti, tre uomini ritenuti sospetti provenienti da Torre Annunziata sono stati fermati dai carabinieri a Positano. Le tre persone fermate sono state arrestate, in quanto colti in flagrante, in possesso di numerose banconote contraffatte di vario taglio, in particolare da 20 euro, pronte per essere immesse in circolo. Pare che già da alcuni giorni, gli indagati agivano indisturbati, compiendo numerosi acquisti, con le banconote false in molti esercizi commerciali della penisola sorrentina e amalfitana. Ma una volta arrivati a Positano, gli indagati, sfruttando la massiccia presenza turistica, di conseguenza il non controllo delle banconote tramite dispositivo elettronico, al momento del pagamento, hanno tentato di comprare, in un esercizio commerciale, alcuni gratte vinci con una banconota da 20 euro. Tuttavia, il commesso del negozio, accorgendosi che qualcosa non andava, a causa della giovanità del compratore, ne ha richiesto il documento d'identità. A tale richiesta, il giovane è scappato e il commesso ha allertato i carabinieri, che hanno fermato poco dopo i sospetti. Soddisfazione nell'incontro tra i sindacati e la prefettura di Salerno, avente come oggetto la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico su gomma. Sentiamo. Si farà un bilancio tra tre mesi in merito alle iniziative che d'intesa aziende e sindacati al tavolo della prefettura hanno deciso di attivare per migliorare la sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico in provincia di Salerno. E quanto deciso al termine della riunione straordinaria del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, aperta alla partecipazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori del trasporto pubblico di Bussitalia per l'azienda ha partecipato il responsabile in movimento Malagnino, Sita Sud rappresentata dal responsabile dell'ufficio commerciale Farina per la provincia di Salerno Ranesi e Rocco Galdi, assessori alla mobilità del comune di Salerno. Al tavolo naturalmente erano presenti anche i vertici delle forze dell'ordine ai quali è stato chiesto un incremento dei controlli e di supporto ai lavoratori dei mezzi di trasporto pubblico. Troppo spesso presi di mira dalle ire di passeggeri che, a causa anche dei disagi, sfogano su conducenti e controllori. Diverse le proposte avanzate per migliorare la sicurezza da parte delle organizzazioni sindacali. La proposta che la Cigere ha portato al tavolo in prefettura? Abbiamo ribadito ciò che avevamo scritto nella nota congiunta con le altre organizzazioni sindacali rispetto alla possibilità di garantire l'accesso alle telecamere, la possibilità di trovare cabine chiuse per il personale, così come abbiamo ribadito anche la necessità di trovare delle uniformi adatte per i verificatori di titoli di viaggio che facciano percepire la presenza all'interno dell'autobus di qualcuno che controlli i titoli di viaggio. Sicuramente sono soluzioni che non sono a breve termine, ma sono delle soluzioni che secondo noi possano sopperire alle difficoltà che in questi giorni stiamo verificando. Dopodiché abbiamo naturalmente rilanciato, cogliendo l'occasione di trovarci sul tavolo prefettizio e che comunque riguarda la sicurezza, la nota è inviata nei giorni scorsi rispetto ad un tavolo congiunto per l'affollamento laddove i traghetti si dovessero fermare e quindi evitare ciò che è successo nelle scorse giornate. Abbiamo discusso su quello che già c'eravamo prefissi di discutere, di aggiungere agli autobus che non sono in dotazione di cabina blindata, la giubba per i verificatori e inoltre noi abbiamo chiesto al prefetto e alle istituzioni se giuridicamente sia possibile come deterrente applicare l'articolo 366 del codice penale essendo che gli autisti, i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale sono già come agenti di polizia amministrativa di far passare il principio come se fosse un'aggressione a pubblico ufficiale in modo che così facendo la pena diventa maggiore rispetto alla semplice aggressione. A vietri sul mare è vietato circolare in costume da bagno o a torso nudo. A stabilirlo è stato il sindaco di Simone con un'apposita ordinanza. A vietri sul mare è vietato passeggiare in costume da bagno o a torso nudo per le strade cittadine. Nei giorni scorsi infatti il sindaco Giovanni De Simone ha riproposto la cosiddetta ordinanza anticafoni per cercare di garantire un pubblico decoro durante i mesi estivi. La tutela e il miglioramento della civile convivenza e della decorosa vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo dell'amministrazione comunale, si legge nell'ordinanza. Sempre con maggiore frequenza a vietri sul mare si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di buona educazione, quale ad esempio la circolazione in costume da bagno o a torso nudo per le vie cittadine. Numerose le segnalazioni che sono pervenute al sindaco da parte di cittadini e turisti anche negli anni precedenti, che lamentavano situazioni idonee a compromettere il pubblico decoro. Alla luce di ciò, il primo cittadino De Simone ha firmato un'ordinanza con la quale vieta, con eccezione delle aree balneabili, di circolare esclusivamente in costume da bagno e a torso nudo. Allo stesso tempo è vietato entrare nella palazzina e negli uffici comunali in abbigliamento poco decoroso, ad esempio in pantaloncini e in canotta. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 150 euro. Il nucleo tutela patrimonio Carabinieri restituisce, dopo 23 anni, una coppia di angeli rubati in una chiesa a Fisciano. I fedeli che frequentano la chiesa di San Pietro e dello Spirito Santo a Fisciano applaudono. Le due sculture in marmo raffiguranti la coppia di cherubini, che risalivano all'altare del XVIII secolo, possono tornare nel luogo cui appartengono. I due angeli di marmo, che erano stati sottratti il 2 agosto del 2000, sono stati rinvenuti in una villa nel comune di Seravezza, in provincia di Lucca, appartenuta a un avvocato ormai defunto e attualmente divisa tra alcuni suoi eredi che non hanno saputo dare spiegazioni della provenienza illecita. Le indagini erano iniziate a seguito di un sopralluogo congiunto con funzionari della soprintendenza nelle province di Lucca e Massa Carrara. Come ha dichiarato il capitano Claudio Mauti, comandante del nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Firenze, il quale nel suo intervento in chiesa ha ricordato quando da studente frequentava l'Università di Fisciano, il risultato testimonia le notevoli doti investigative e la preparazione, nella difficile materia dei beni culturali, dei militari del Comando Tutela Patrimonio, oltre all'importanza della catalogazione e della conservazione dei beni culturali, che, se fornite in sede di denuncia, alimentano la banca dati, strumento indispensabile in mano ai Carabinieri dell'Arte, per recuperare anche a distanza di lungo tempo beni di cui si erano persi ormai le tracce. Fondamentale è anche il supporto fotografico. E partirà anche una gara di solidarietà promossa dal Rotary per reperire fondi utili al restauro della coppia di Chirubini, così come annunciato dal primo cittadino fiscianese, Vincenzo Sessa. E adesso ci fermiamo per una breve pausa. Marco mi sa che dobbiamo pagare la rata dell'Osino. Le nostre proposte di fornitura di gas metano ed energia elettrica saranno personalizzate con la tipologia di utilizzo. Che tu sia un artigiano, un commerciante o un ristoratore, garantiamo tariffe chiare e trasparenti, professionalità e tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Tirreni Energia, in via Vittorio Veneto numero 158, a Cava dei Tirreni. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti. Riprendiamo con lo sport, calcio. Mattia Maffei sale in Serie C, dalla Cavese si trasferisce al Catania. È proprio il caso di dire vola, 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 Mattia Maffei. Il terzino sinistro, classe 2004, sale in Serie C. Dalla Cavese passa al Catania, a titolo definitivo, e l'annuncio ufficiale è stato dato proprio martedì sera dalle due società. Il calciatore torna dunque tra i professionisti, dopo aver giocato già nella stagione 2020-2021 con la formazione Primavera 3 degli Aquilotti, raggiungendo la qualificazione alla fase nazionale contro il Cesena, nelle cui file c'era anche quel Steven Spendy, che durante la settimana a sua volta ha firmato con l'Empoli. Già in quell'annata Maffei giocava sotto età, essendo nato nel dicembre 2004, aveva solo 16 anni. In quel campionato Maffei non è mai sceso in campo in prima squadra, tuttavia, dopo la retrocessione in D della Cavese, è rimasto in attesa per un bel po'. Poi è rientrato in squadra a Biancavilla, facendo il suo debutto. Dal febbraio 2023 ha messo insieme 44 presenze con i Metelliani, senza gol all'attivo, superando nel corso della passata stagione i postumi di una botta al ginocchio, ed è sempre stato allenato da Troise, che lo ha schierato tendenzialmente come terzino, provandolo in qualche occasione anche come stopper, ma il ruolo naturale di Maffei è comunque quello di esterno-sinistro, perché ha vocazione all'attacco. Maffei negli ultimi due campionati ha saputo seguire l'allenatore e si è messo a disposizione del gruppo, e ha cercato sempre di assumersi anche delle responsabilità, tutte caratteristiche rilevate da lui stesso nel giorno della sua presentazione con il Catania, e che fanno di lui un calciatore già pronto per poter tornare tra i professionisti. Nell'ultimo torneo di Viareggio, il giovane è stato convocato con la rappresentativa nazionale della LND del selezionatore Gianni Chedda. A Catania, Maffei sarà allenato da Luca Tabbiani, che è arrivato in Sicilia dopo che è mancata la permanenza di Giovanni Ferraro, quindi l'auspicio di tutti quelli che conoscono il giocatore è che possa meritare di trovare spazio con continuità nella Serie C, e affermarsi dunque nel mondo dei professionisti. Intanto, per ragioni organizzative, è stato annullato l'allenamento congiunto che la Cavesi avrebbe dovuto sostenere sabato a Camigliatello Sirano con il Sambiase. Test sostituito con un allenamento normale e, prevedibilmente, dopo il rientro del gruppo squadra Aquilotto in Campania, si lavorerà per concordare un nuovo test con altra formazione, in previsione dell'inizio delle gare ufficiali. Dovrebbe esserci la prima gara di Coppa Italia di Serie D che opporrà la Cavese a un'altra squadra campana, poi l'inizio del campionato, la cui data oggi sarebbe il 3 settembre, ma che potrebbe slittare al giorno 10. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.